Benvenuti nel mondo degli orologi Pierre de Roche. Se siete alla ricerca di un orologio di lusso unico, che combini tecnologia all'avanguardia ed eleganza classica, gli orologi Pierre de Roche potrebbero fare al caso vostro. Fondata nel 2004 dall'orologiaio svizzero Pierre Dubois, la società si è guadagnata una reputazione per l'innovazione nel design e per la precisione dei suoi movimenti. Gli orologi Pierre de Roche sono caratterizzati da un design distintivo e audace, con particolare attenzione ai dettagli. Ogni orologio è realizzato con materiali di alta qualità, come l'oro 18 carati, l'acciaio inossidabile e il titanio, e presenta finiture impeccabili. Ma non è solo il design a fare la differenza. Uno degli aspetti distintivi degli orologi Pierre de Roche è l'uso di movimenti svizzeri di alta precisione. L'azienda è nota per la sua collaborazione con i migliori fornitori di movimenti svizzeri, come Dubois de Pra, e Sopra, per produrre orologi di altissima qualità e precisione. Inoltre, molti modelli includono complicazioni brevettate come il sistema di doppio bilanciere, che migliora l'affidabilità e la precisione degli orologi. La gamma di orologi Pierre de Roche comprende modelli per uomo e donna, con opzioni che spaziano dalle linee classiche a quelle più contemporanee. Gli orologi Pierre de Roche sono anche disponibili in edizioni limitate, che li rendono ancora più preziosi e ambiti dagli appassionati di orologeria. I quadranti sono spesso arricchiti da numeri romani, indicatori luminescenti e dettagli in cristallo zaffiro. Molti modelli presentano un'ampia gamma di colori, tra cui il nero, il bianco e il blu. Ogni orologio Pierre de Roche è realizzato con materiali di alta gamma, come l'oro 18 carati, l'acciaio inossidabile e il titanio. Questi materiali garantiscono una durata nel tempo e una resistenza all'usura senza uguali. Inoltre, gli orologi Pierre de Roche presentano finiture impeccabili, che li rendono ancora più preziosi. Grazie.